Soldati dell'ultimo battaglione, sono il vostro leader, il tenente colonnello Charles Bliss. Alcuni di noi si sono arrabbiati quando hanno deciso di abbandonarci. Ci hanno lasciato morire, secondo alcuni. Ma io mi sono guardato intorno e ho visto un'opportunità. Ho visto come era e come potrebbe tornare ad essere se avessimo le palle di combattere. Se ci saranno uomini pronti a riprendersi le strade dai degenerati e dai criminali che ne hanno preso il controllo. Pronti a fare quello che il governo Codardo e i suoi patetici soldati hanno avuto paura di fare. Pronti a estirpare l'erbaccia dei bugiardi e degli assassini che lottano contro la pace. Noi non ci guarderemo indietro, non scenderemo a compromessi. Faremo tutto il necessario per garantire un futuro migliore a chi sta con noi. E chi è contro di noi? Che Dio abbia pietà della sua anima. È tutto. Mi hai ripreso, vero? Perché non mi ripeterò una seconda volta.